Giampaolo Filice, vieni Giampaolo, ciao, come stai? Bene. Sei emozionato? Un pochino. Posso dirti che è incomprensibile, anzi un po' di emozione è positiva, ti svelo un segreto, così la tensione ti aiuta a esprimersi meglio. Tu ti sei preparato bene? Sì. Allora, vai tranquillo. La scuola del mondo intero. C'è una scuola grande come il mondo, ci insegnano maestri, professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, le stelle temporali. Ci sono lezioni facili, lezioni difficili, brutte, belle e così così. Di imparare non si finisce mai, questa scuola è il mondo intero. Apri gli occhi e al che tu sei promosso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.